GS ha significato tanto per me in questi anni, ho fatto 9 anni partendo dal settore giovanile e mi ha portato a una grande squadra come quella che può essere Schio, quindi devo anche ringraziare la società che ha creduto in me. Ora però sono qui, sono carica, sono carica di incominciare, siamo pronte e non vedo l'ora di scendere in campo sabato all'opening day. GS ha fatto una buona squadra quest'anno, ha allungato molto il suo roster, ha preso buone italiane e sono appunto un'ottima squadra e possono anche fare bene in Euro Cup. Quindi sarà una squadra molto ostica da affrontare, noi cercheremo di imporre il nostro ritmo fin da subito e non ce la metteremo tutta come al solito. Dopo la Supercoppa siamo riusciti a lavorare veramente bene, analizzare i piccoli dettagli che ci sono mancati, siamo pronte, abbiamo tante energie da mettere in campo e lo faremo vedere il più possibile. Quindi mi raccomando seguitici sabato.